E saluti ragazzi e bentornati da RT1936 Gio oggi siamo in un nuovissimo video E parleremo ovviamente del nostro Pescara che asfalta lo spoltore per 9 a 0 A Palena io c'ero quel giorno di ieri Partiamo subito Il fischio d'inizio c'è stata alle 4 e mezza Si gioca Sono i primi minuti Noi attacchiamo ma loro ci chiudono Però al dodicesimo c'è l'innominazione Bocic corre sulla corsia La mette al centro Di Grazia non può sbagliare a porta vuota 1 a 0 Di applausi dei 250 255 tifosi pescaresi Dopo Sempre nel primo tempo Rosso al centro Arriva Del Marche Che fa il suo primo gol E 2 a 0 Pescara Finisce il primo tempo Il bianco azzurri sono avanti di 2 Ho vinto il secondo Arriva subito il 3 a 0 Ancora lui Ancora Del Marche Il 4 a 0 Non può mancare ovviamente E chi? Se non lui Del Marche Tripletta Tripletta Antrik signori Antrik Poi al quinto gol invece C'è al 4 a 0 C'è stato un rigore per il bianco azzurri Quindi per noi Va Del Marche Se lo fa parare così Se lo fa parare così signori E si rimane ancora sul 4 a 0 Poi Per il 6 a 0 Col meraviglioso Mamma mia Cambio gioco Di Valdifiori Che aggancia perfettamente Bocic Che di tacco La pasta di Grazia Che la mette al centro Per un tir al volo Perfetto Di Belloni Che Ammutolisce I tifosi Nello spoltore Arriva pure il 7 a 0 Bianco azzurro Lì I tifosi Si scatenano E più tardi Arriva l'8 a 0 Il Pescara È sopra Sta spaltando Lo spoltore Il 9 a 0 Ovviamente Del nostro Del Marche Qua tripletta Poker per lui Poker per lui Poker per lui E adesso passiamo Ai saluti Ecco Giosuè E Nicolas Bella ragazzi Scusate Per il mio I miei capelli Ho voluto cambiare Sennò Ci sono tutti davanti Ok Ora parla Nicolas Ciao ragazzi Signori Il mio video Finisce qui E Ciao Iscrivetevi E lasciate like